Una strada dimenticata e lasciata a metà. Una strada che però potrebbe tagliare i tempi di percorrenza tra l'Aquila e Pescara. I sei chilometri però risultano bloccati da anni. Così il sindaco di Collepietro, Massimo Tomassetti, che è stato ascoltato anche in seconda commissione del Consiglio regionale, la Commissione Territorio. Una strada che se completata negli ultimi sei chilometri collegherebbe direttamente Collepietro a bussi sul Terino, accorciando dunque con una spesa contenuta peraltro il tragitto tra il casello della Tostada 25 e Navelli e dunque tra Pescara e l'Aquila lungo la 17 di oltre 20 chilometri e di oltre un quarto d'ora i tempi di percorrenza. Il tratto di strada realizzato, rimasto a metà da circa 20 anni, ormai è invaso dalle erbacce. Una strada realizzata, lo ricordiamo, dalla provincia dell'Aquila negli anni 90 rimasta però l'ennesima incompiuta. E pensare che 1,3 milioni di euro c'erano. Una vicenda che però, secondo il sindaco, ha del grottesco. Il progetto è rimasto incompiuto. Nel 2010, il milione e 300 mila euro per completare il tratto mancante c'erano però la provincia di Pescara, allora c'era il presidente di centrodestra Guerrino Testa, ha chiesto l'ok alla regione per rimodulare il finanziamento e così i fondi furono dirottati al rifacimento del ponte di Scipio, nel territorio di Popoli, danneggiato dal terremoto del 6 aprile 2009, con i lavori che partirono nell'aprile del 2013. Quello che invece posso dire è che nel 2010 c'è stata una proposta di rimodulazione di un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro per completamento della strada, sul proposto della regione Pescara, dalla strada con le pietro bussi alla messa in sicurezza del ponte di Scipio a Popoli, dignitosissimo e importantissimo ponte di collegamento. Dal 2010, all'indomani della mia elezione, al 2015 c'è stato il cosiddetto silenzio radio, fin quando poi non abbiamo appreso di una delibera dell'aggiunta regionale che riprendeva questa proposta di rimodulazione del Consiglio regionale di allora e di fatto riproponeva una rimodulazione della rimodulazione. Quindi sottraendo nuovamente alla realizzazione della strada con le pietro bussi il finanziamento stanziato nel progetto della viabilità, nel piano della viabilità 2008-2010, per mettere in sicurezza il ponte. Premesso che il ponte di Scipio e altri ponti sono importantissimi non solo per Popoli, ma anche per Collipietro e per altre zone interne, non si può fare figli e figliaste, soprattutto non si può sistemare da un lato e poi creare problemi dall'altro.